Commemorazione dei difunti, ad Angri torna un appuntamento che è diventato tradizione, la notte bianca. Il cimitero resterà aperto durante la notte tra l'1 ed il 2 novembre. Per il quartarno consecutivo l'amministrazione Ferraioli ha deciso di rinnovare, perché negli anni passati è stato visto in maniera positiva dai cittadini della nostra città, la notte bianca. Per cui il cimitero resterà aperto dalle 7 del 1 novembre fino alle 6 del giorno successivo, che è il 2. A tal proposito voglio ringraziare la vigilanza d'Oria nella persona del signor Cosimo Rega, che appresterà servizio gratuito per quanto riguarda la notte. Quindi mi sento veramente di ringraziarlo con immenso affetto. La struttura ovviamente sarà adeguata per accogliere anche di notte con adeguate luci, quanti arriveranno alla struttura? Certo, sicuramente in questi giorni stanno facendo dei lavori di manutenzione ordinaria, alcuni di manutenzione straordinaria, anche perché il vento forte di questi giorni ha sradicato alcune piante.